Amici lettori di Val Susa, oggi buongiorno, oggi siamo a Susa, alla palestra Evolution perché c'è l'Open Day e siamo qua con il titolare Fabio Dolce. Buongiorno signor Dolce. Buongiorno a tutti. Allora, quali sono i corsi che voi proponete oggi per i vostri clienti? Oggi facciamo tutti i corsi che abbiamo in programma in modo gratuito, quindi abbiamo TRX, ginnastica dolce, funzionale, calisthenics, boxing, kickboxing, corsi per i bambini, spinning. Quindi oggi faremo tutta una carrellata di corsi, sarà una prova gratuita per chi ha piacere di venire a vedere le nostre attività. Siamo con il titolare, il signor Fabio Dolce e qui vedo anche dei dolci. Come mai questi dolci, signor Fabio? Dobbiamo incentivare la gente a far palestra, quindi diamo il nostro aiuto. Ecco, signor Fabio, ci parli un po' della sua attività qui a Susa, che tra i parenti si trova in una zona molto trafficata, per cui passaggio di persone. Siamo comunque vicino al centro, vicino alla stazione ferroviaria, quindi anche comodo da raggiungere a piedi. L'attività nasce diciamo sette anni fa circa, nel tempo ci siamo evoluti, come dice il nome. Abbiamo cercato di portare tante migliorie, tante novità, compreso gli ultimi lavori che abbiamo fatto di ristrutturazione durante l'ultimo lockdown, abbiamo deciso di stravolgere tutta la palestra, di rifarla completamente, portando nuove attività, nuove sale e tante novità. Bene, grazie signor Fabio. Adesso noi facciamo un giro per la palestra, ok? Bene, grazie signor Fabio. Grazie signor Fabio. Grazie signor Fabio. Grazie signor Fabio. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti